Uscire di casa per fare la spesa? Non sarebbe più comodo ricevere la spesa direttamente a casa tua? Grazie alla nostra semplice app, per fare la spesa non sarà più come prima. Hai difficoltà a muoverti? Oppure fai fatica? Sono mamma indaffarata? Potrai ricevere la spesa in un massimo di 3 ore dalla tua richiesta. Il tempo che risparmerai grazie alla nostra applicazione potrai dedicarlo a te stesso o alla tua famiglia. L'app che ti permetterà di ricevere tutto ciò che ti serve, quanto ti serve, ovunque ti serve è... MacMoles! Che aspetti? Scarica l'app!